Io qui mi occupo di dipendenze, ho un laboratorio, sono direttore di un laboratorio, in realtà codirettore e ho applicato le mie conoscenze in termini di dipendenze nel campo dell'alimentazione, circuiti cerebrali coinvolti, in termini di comportamento. La parola chiave è compulsivo, abbiamo appena scritto un libro, è uscito quest'anno, sulla compulsività in relazione all'alimentazione. Siamo in una relazione giusta? Eh sì, direi, sì. Un problema grosso? Un problema enorme, sì, perché coinvolge l'obesità, i disturbi alimentari, quindi parliamo di milioni di individui. Quando ho tempo, mi chiudo nel mio mondo e aspetto la vena creativa e compongo, prendo una chitarra in mano, con accordi, scrivo dei testi. Solitamente, insomma, mi abbalgo dell'aiuto di professionisti in campo musicale, quindi musicisti, ingegneri del suono. Il cantante dell'album The Fight For Their Rights, che è Chandler Moguel, è un rocker, ha pubblicato circa 25 album. Non lo faccio, in realtà, per, figuriamoci, per diventare una rock star o chissà che cosa, non è questo lo scopo. Combattete, non per i vostri diritti, ma per i loro diritti. Così si chiama il pezzo portante, il pezzo d'apertura dell'album che lei ha appena fatto. Sì, innanzitutto non è il primo, è vero, ma è il primo nel quale mi cimento nella scrittura dei testi, in inglese. Il mio interlocutore è qualcuno che fondamentalmente non ha particolari problemi, così come non ne ho io fondamentalmente, immagino anche lei. Ma proprio perché ci troviamo in una posizione di privilegiati, abbiamo il dovere, questo è il messaggio che cerco di mandare, di prendere delle posizioni chiare, rompere il muro del silenzio, un silenzio frastornante. Combattete per i loro diritti, chi sono loro? Loro sono i migranti, i rifugiati di guerra, loro sono gli ultimi, quelli che non hanno una voce nella società. Quelli che io definisco anche molto provocatoriamente, gli scarti del mondo civilizzato, che chiaramente non lo penso, non penso a forto che siano degli scarti, ma purtroppo è un dato di fatto. Molte volte sono trattati come tali. La passione per la musica e per il sociale che lei ha da sempre o l'ha sviluppata quando è diventato lei un'immigrante, tra virgolette. Devo dire che non ho avuto mai nessun tipo di problema di discriminazione, però nello stesso tempo da fuori, in un ambiente diverso, che non sia quello di casa tua, della tua terra, della tua patria, lì forse comincia a pensare un poco di più. Ma infatti in una delle canzoni che è appunto Migrant, all'inizio in realtà nasce come una canzone autobiografica, poi ho modificato un po' il testo per renderla più sociale, più generalizzabile. All'inizio dicevo di me stesso, mi sentivo come un esiliato, perché avevo fatto la scelta di proseguire con la ricerca, perché io volevo stare con i miei cari e nella mia terra, mi sarebbe piaciuto tanto, però chiaramente non era conciliabile. Senta, quanto è compulsiva la musica per lei? Quanto è drogato di musica lei? Beh, no, no, non mi definisco un drogato di musica, mi piace parecchio, però non posso definirlo compulsivo, riesco ancora a fermarmi. Senta, la musica è una droga buona per me? Eh sì, parecchio buona. A lei quanto bene le fa? Eh tantissimo, perché poi si può accoppiare in qualunque momento della giornata o della vita in generale.